Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video Voi vi chiederete perché ci abbiamo El in questo video? Domanda legittima E il punto è che abbiamo trovato nei supermercati italiani Un sacco di cose che sono molto strane in Giappone Quindi in questo video avremo un El a caso Che proverà a indovinare che cosa sono questi prodotti italiani E in più dovrà assaggiarli e dire se gli sono piaciuti o meno Sei pronto? Iniziamo con il primo prodotto che è la Io non l'ho mai mangiata in vita mia ma proviamola Tieni Oggi non è che c'ha molto intuito eh You are a detective you should know right? Ma è cibo per gatti Ma è buona davvero la stimentazione? Ma davvero? Mmm Conto lì? Buonissimo Anche io assaggio la cimental per la prima volta adesso guardatemi Come fai se la cimental non ce l'hai? Uoah ma è tremenda Che feccia Eeeh cosa è questo? Che feccia è questo? Che feccia è questo? Ehm un po' Ehm un po' Sembra una gelatina Ehm un po' Guardate Il sapore è molto buono prossima abbiamo le lenticchie le lenticchie della Conad vediamo se anche queste piaceranno al nostro El è è io è io è io è io Non è capace di fare niente Guardate che si è sporcato di simmental lì, eh, notare E' buon appetito Mame, è buon appetito? Cosa? Penso che è buono Io voglio questo in Gipan E' buon appetito Prossimo abbiamo l'estatè al limone Cosa vuoi chiedere? Trogar Si, sei un investigatore, dovesti capirle a queste cose Adesso ho capito che li sei fatto ammazzare a metà serie Cosa vuoi? Ti piace? Buono? I would buy coca cola Prossimo, questo? Il prossimo abbiamo questo No! Oh! Masei, nani è questo? Però costava poco, era in offerta Emergency? Il prossimo abbiamo queste che sono delle alici penso, non so cosa siano Da, prova Vorreste un moroso che vi apre i pacchetti, dite la verità Technico How's it Meringa 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 Il prossimo cibo misterioso è questo lardo, sapori e dintorni. Bene, prova questo lardo. Non ho mai visto in japan? Sì E questo è prosciutto? Sì, molto piccolo prosciutto. Si sembrava solo fatta. Non? È praticamente la parte fatta della prosciutto. Mi piace che descrive che cos'è il lardo agli italiani. È buono? Penso che è troppo per me. Mi piace la parte fatta del lardo. Sì, il lardo? Quando è col prosciutto? Mh, magari un po' con il vino. Mi ricordo le calorie. Ok ragazzi, siamo passati adesso a dare i voti. Iniziamo dalla Simmental. 5 out of 10? Denticchie. Denticchie 10 out of 10. Poi, alicine. Ah, è più buon, ma anche pizza. Quindi? 7. E sta a te? 2. Merinde? That was good, but I wouldn't order by myself, so probably 3. And Ficchi d'India? 0. All'ardo, che voto dai? 8. 8? Ti piace? No, ok, quindi 6. Ok, 6. 6? 6. Quindi questa gara è vinta da... Le lenticchie! Le lenticchie! 6. 6. 8. Ok, puoi dire qualcosa? Guarda molto cosa mi è arrivata. 6. 7. E' ancora l'altro. 7. Oooo! 6. Oooo! 8. 9. 10. 10. dead note cinese non ho capito secondo me una cinesata non funziona è una cinesata non funziona vabbè bene ragazzi se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di lasciare un dito in su tutti quelli che non commenteranno verranno segnati su questo libro che anche se è un po' una cinesata nel dubbio io lo guarderei e lascerei un mi piace quindi un abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video ciao eo eo how can i make my youtube channel popular listen listen i know what we can do eo